Ciao ragazzi, ricordatevi di iscrivervi ad Unbox Italia e di guardare questo video in verticale. Benvenuti. Un altro video? Un altro video di nuovo in questa settimana? Sì, perché abbiamo un nuovo studio e sono carico. E mi piace, mi piace tanto il nuovo studio. Mi piace portarvi i contenuti e come vi dicevo, l'unico limite era il mio studio prima, perché veramente rallentava troppo la creazione di video. Difatti, siamo di nuovo qui. Più volte nella settimana, un altro video, sono veramente contento. Vi ho fatto scegliere su Instagram quale delle due unboxare e tra poco andremo a capire che cosa avete scelto. Ma prima vi chiedo, voi vi avete accorti che ci sono tutti questi nuovi sfondi su iPhone? Ho fatto lo screenshot, io non me ne ero mica accorto, adesso sto usando questo qui. Veramente belli, veramente belli. Avete presente? Non so, io non li avevo visti. Sono sfondi live. Ma buh, ricordavo che ci fossero solo gli statici e i dinamici. Sì, una volta avevo visto anche i live. Comunque sia, fatemi sapere nei commenti se sono una novità anche per voi oppure se li avevate già visti. Allora, prendiamo, non so perché c'è la fotocamera accesa, il mio iPhone 7. Quello ricondizionato, quello del video Refurbed, non so se avete presente. E andiamo su Instagram. Andiamo su Instagram, la mia storia. Qua andiamo ad unboxare. Blu 57%. E così avete scelto. E così facciamo. Apriamo una blu. Questa la lasciamo qua, così. E noi apriamo la blu. Abbiamo il nostro Nimble qua, che ci aiuta. Allora, ci sono molte cose interessanti che dovete sapere su queste cuffie. A proposito di cuffie, Apple non mi ricordo se oggi o comunque meno di 24 ore fa ha aggiornato il firmware delle vostre, perché io non ce le ho, Airpods Pro. Quelle da 279, avete presente? Bene, ecco. Quel firmware lì è stato aggiornato. Ora voi vedevate che nei miei vecchi video il Nimble apriva tutto al primo colpo. Sì, quello era il potere dell'editing. Perché non è mai stato così. Lama in ceramica. Non taglia, questo è vero. Però non è proprio così al primo colpo. Vabbè, comunque. Il suo lo fa. Carino, carino. E noi adesso andiamo ad unboxare queste Solo Pro. Parliamo di cuffia Beats. Parliamo di Apple di conseguenza. Cancellazione attiva del rumore. Collaborazione con Pharrell Williams. Vi mostro. Ok? Se non lo vedete. More Matte. Ok? Se vi piacciono le More. questa è la scrittina della cancellazione attiva del rumore. Fast Fuel. 3 ore di riproduzione. Allora, riesco a mostrarvele con questo nuovo super autofocus. Eccolo qua. 10 minuti di ricarica. 3 ore di riproduzione. Batterie. 40 ore. Ragazzi. Fino a 22 ore. Con la cancellazione attiva del rumore. 40 ore senza la cancellazione. Modalità trasparenza. Che è la stessa delle Airpods Pro. Ok? Carina come cosa. E dopo Pure ANC sistema di cancellazione adattiva con purezza sonora. Qua sotto invece cosa abbiamo scritto? Microfoni integrati. Perciò se vi chiamano mentre ascoltate musica. Oppure se volete usarle come cuffie con microfono. Ci siamo. Potete farlo. E controllo della chiamata e della musica. Ok? Fast Fuel. 10 minuti di ricarica. 3 ore di riproduzione. E qua una citazione di Pharrell Williams. con le sue iniziali. E dietro un'altra foto. Ragazzi. Dai. Ci abbiamo perso un bel po' di tempo. No? Prima di aprirle. Adesso le apriamo. Vi faccio notare solo questo. Made for Apple TV. iPhone, iPad. Ma c'è anche il logino di Android. Cosa vuol dire? Che se voi volete usarle con Android. Al 100%. Visto che questa è una cuffia Apple. Vi consigliano di scaricare l'app. Ok? Perciò ricordatevi di scaricare l'app. Nel caso che... Io ricordavo che di solito le aprivo con più facilità. Intanto vi siete spoilerati il prezzo. 299,95. Ok? Perciò non una cuffia economica. Io volevo aprirla senza distruggere. Alla. Fatta. Vedete dentro? Non c'è un tubero. Non c'è nient'altro. Ok? Bene. Ora. Il seriale Dark Blue. La cuffia è relativo anno. 2019. Ok. Sì. Non vi sto portando un'anteprima. Però volevo portarvela. Vediamo se... Ragazzi sono un po' aruginito. Non so più fare gli unboxing qua. Come si smembra per bene questa scatola. Bellissimo questo pezzo che cade. Allora. 70% delle fibre che ho in mano in questo momento sono riciclate. Buon odore. Cos'altro abbiamo qua? Accessories. Mi piace come si apre questa cosa. Vuoto? Sì. Nient'altro. Allora. Vi mostro più da vicino. Cavetto Lightning. Lo vedete? Non capita tutti i giorni di vederne uno nero. Ma Beats lo usa da qualche anno. Perciò non è una grandissima novità. Non bisogna gridare al miracolo. Perché magari lo vedete voi per la prima volta. Ma c'è da parecchio tempo. Bello. Bello. Mi ricordo che questo rosso lo avevo attaccato dentro la mia macchina. Una macchina che non ho più. E volendo adesso c'è anche l'adesivo nero. La scrittina Solo Pro. E manuale di utilizzo. Manuale di utilizzo perché ci sono un po' di bottoni. Per esempio questo. Che vi mostra come attivare la trasparenza. O come disattivarla. Ok. Vedete sul padiglione sinistro. Come accenderle. Adesso andiamo a vedere. Dai. Buttiamo via tutta sta roba. Sacchete. Bel voglio. E via. Il gancetto che avete visto è per metterlo su questo coso. Questo è visto da vicino il diciamo panno con cerniera che richiude le vostre future Beats Solo Pro. Allora. L'accensione e lo spegnimento sono automatici. Mostro anche gli adesivi. Vediamo se ce n'è anche dall'altra parte. No. Cosa vuol dire? Per accenderle basta aprirle. Ok. Tac. L'ho accese. Difatti inizia già a lampeggiare il led. Ok. Il mio iPhone 7. Le riconoscerà? Oh. Sì. Dai. Tornate. Usciamo da qua. Tac. Le avevano viste. Le aveva viste. Riproviamoci. Il mio iPad le ha viste. Però io voglio connettere al mio iPhone 7. Hola. Eccole qua. Beats Solo Pro. Tra l'altro. Si vede anche il colore. Top. Eh. Se voi mi facevate aprire le bianche. Avremmo visto. Se le mostrava bianche. Robelle. Connetti. iPhone 7. Attenzione. Configura i Siri. Non ora. Aspettate che vi mostro tutte le cose che mi chiede. Ok. Non ora. Solo Pro. 76% di batteria. Fine. Sacchete. Ok. Allora. Un'altra cosa che volevo dirvi. Che è una novità di queste cuffie. Oltre al fatto che i padiglioni sono un po' più grossi. È proprio bello questo blu. È che quando voi le mettete. Avete già di per sé. Una. Diciamo. Cancellazione passiva del rumore. Ma grazie ai pulsanti. Anche una cancellazione attiva. Ora. Andiamo su YouTube. E proviamole. Per proprio vedere. Come si sente. Wow. Ragazzi che bassi. Probabilmente si sente anche un po' dal microfono della camera. Anzi. Dal microfono qua del mio nuovo setup. Veramente toste. Questo pulsantone qua vi permette di attivare o disattivare la modalità trasparenza. Non è male ragazzi. I bassi mi hanno colpito. Allora vi dico che l'archetto in alluminio anodizzato si allunga più del modello precedente. Ok. Ed è tutta questa parte in alluminio. Perciò non c'è solo l'alluminio interno. Ma proprio tutta questa parte qua. Fatemi pensare. Cos'altro posso dirvi. Dentro c'è il chip H1. Che vi permette anche l'abbinamento. Come avete visto. La cancellazione attiva del rumore. La modalità trasparenza. A cosa servono? La modalità trasparenza serve per evitare che siate isolati dai rumori esterni. Perciò potete sentire se arriva un'ambulanza. Cosa che mi preoccupa sempre. Oppure se siete in treno, in aereo, ascoltare gli annunci. Parlare con gli amici senza dovervi togliere le cuffie. Insomma potete fare un po' di cose. La cancellazione attiva del rumore è attivata di default quando accendete le cuffie. Ok. Non male. Queste erano informazioni che secondo me era il caso di farvi notare. Sono sempre comode le cuffie Beats. Hanno questo archetto rinforzato. Mi piace che sia tutto blu. Anche l'alluminio è blu. Il loro classico design pieghevole. Non è niente male. Questa è la porta Lightning. Tra l'altro penso di avervela mostrata prima. Volevo già che ci sono. Mostrarvi. Un confronto con una cuffia che potrebbe... Eccola qua. Questa qua. L'avete vista su Instagram mentre facevo le prove. Questa qua è una delle mie cuffie preferite. Quiet Comfort. Seconda serie di Bose. Come vedete sono due cuffie differenti. A parte per il brand. Ma per il fatto che questa va sopra l'orecchia. Perciò on ear. Questa è around ear. Infatti i padiglioni sono più grandi su queste. Per utilizzi lunghi mi piacciono e preferisco. Vi consiglio e vi metto il link in descrizione di queste. Perché l'orecchio sta dentro. Non viene schiacciato. Ok? Però la resa audio è quella individuale. Perché a chi gli piacciono tanti i bassi gli consiglio Beats. Mentre per una cosa un po' più equilibrata consiglio Bose. Entrambi i casi sono comodi. Quello che volevo mostrarvi era come magari Bose utilizza l'alluminio qua dentro. Ok? Mentre fuori è plastica. Per allungare così gli archetti. Mentre Beats ha fatto questo scherzo qui. Tenendo tutta questa parte in metallo. E questa in plastica. Perciò i materiali vabbè si devono un po' contraddistinguere. Ma anche il design e il colore sono due prodotti diversi. Soprattutto per come vi ho detto per la grandezza del padiglione auricolare. Allora mettiamo via queste. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi. Spero che vi piaccia questa modalità di video quadrata. Ricordatevi che con carta hype avete la possibilità di risparmiare 10 euro sull'acquisto di qualsiasi cosa in realtà. Vi metto il link in descrizione per poter usufruire del codice sconto. Io spero che queste cuffie vi siano piaciute. Che vi piaccia il nuovo format. Mi raccomando iscrivetevi e condividetelo. Ve le mostro ancora un attimo. Noi ci rivediamo sabato? Prima di sabato? Adesso posso dire che ci possiamo vedere quando mi gira. Nel senso più spesso di prima. Ma sempre qui su Unbox Italia. Ciao! 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 Ciao!